Abbiamo evacuato e portato in soli 14 giorni in condizioni difficili 4.890 cittadini afghani, tra cui molte donne e bambini. Abbiamo fatto il massimo e nel pomeriggio è partito anche l'ultimo C-130 con a bordo i militari italiani che sono stati impegnati in questa operazione, la Joint Evacuation Task Force. Con oggi termina l'impegno ventennale delle forze armate italiane in Afghanistan e il mio pensiero va ai 54 caduti, alle loro famiglie, ai 723 feriti e alle vittime degli atti terroristici.